Brooklyn Park di Nicola Duracevic e Supereroi senza superpoteri di Beatrice Baldacci sono i vincitori ex equo della sezione Best Short Nazionale e Internazionale della prima edizione del Calabria Movie International Short Film Festival di Crotone. Come miglior attore è stato premiato Marco Caldoro per Ritorno a casa, miglior attrice Jenny Denucci per Happy Birthday, miglior regia Viva di Stelios Cupeteris, miglior corto punto di ritorno Apollo 18 di Marco Renda, miglior corto in Calabria La Grande Onda di Francesco Tortorella e poi menzione speciale della giuria Miriam Fauci, attrice protagonista di Aggrappati a me di Luca Arcidiacono. A Parco Pitagora il festival ha catturato l'attenzione di tanti registi provenienti da tutto il mondo ed è stato seguito da molti appassionati. Il bilancio nelle parole di Matteo Russo che con Luisa Gigliotti ha curato la direzione artistica. L'idea del Calabria Movie è anche quella di farlo diventare un punto di ritrovo per gli appassionati del cinema, quindi si pensa già a lavorare subito alla seconda edizione, magari un qualcosa di più grande perché quest'anno è stato molto difficile organizzare questa manifestazione, queste due giornate di eventi. Devo dire che nonostante tutto siamo riusciti a organizzare una serata dove il pubblico di Crotone ha risposto in maniera molto decisa e penso che questa forse è la risposta più chiara sul fatto che a Crotone la cultura si può fare e soprattutto gli eventi culturali sono da fare in questa città. Il festival ha proposto cortometraggi molto interessanti proiettati a Parco Pitagora nel corso di due serate che hanno dimostrato, come ancora una volta, il cinema riesca a raccontare tante, tante storie. C'è tanta risposta, soprattutto dai giovani che spesso non veniamo presi molto in considerazione, invece devo dire che il pubblico è stato molto partecipe, fin dal pomeriggio abbiamo avuto la mostra in collaborazione con gli Allers Calabria, anche la sera sono rimasti tutti fino alla fine e hanno apprezzato moltissimo cortometraggi. Tra l'altro un linguaggio che spesso non è molto conosciuto perché si va più al cinema, i cortometraggi non hanno una distribuzione come i film, quindi tramite questi festival facciamo conoscere anche un linguaggio nuovo. Targhe e premi sono stati realizzati dal giovane orafo Antonio Affiliato.